Guarda, arriva Arianna. È arrivata Arianna. L'argomento. Allora, voi avete appena citato come Cristo comanda lo spettacolo che avete fatto insieme. Non potete non regalarci un pezzetto. Io entro con la valigia dell'attore. Ma c'è un gettone di presenza. Parla con la ginestra. Di che cosa avete bisogno? Beh, almeno dei pantelli per coprire queste app. Con chi pensi di avere a che fare? La ginestra, la valigia dell'attore. La valigia dell'attore com'è a mia in tournée? Massimo va in giro con le buste di plastica. Una tristezza infinita. Perché lui deve fare pochi chilometri in realtà. Qualche mutanda, due pedaline. Dove dobbiamo arrivare? Al 33. Palestina 33. Ma come fai? E che 33 sia. Questi sono i vostri mantelli originali. Ne ho visti tanti questi. Quanti palcoscenici hanno visto? Ma che ti importa? Lo metti, lo metti dai. Va bene così? Avete bisogno di altro? Posso fare tutto quello che volete? Beh, ci servirebbe il deserto, se tu riesci a fare il deserto. Scusate, siamo a questa e vita. E allora, se vi serve il deserto? Facciamo il deserto. Che deserto sia! Attenzione al microfono, guarda un po'. Che stai a fare? Stai a pensare? Stavo tra me e me. Tu che fai? Stai a pensare? No, no, stavo a ragionare sul fatto... Sul fatto? Che mi piace tanto il pane. Ma quello nostro, capito? Quello che mi faceva mia nonna. Il rusticus. Che quando hai fame poi non c'è niente di meglio del pane. Ma parlare del pane nostro, guarda. Io manco mai ricordo il sapore. Il pane del qua. Quello azimo. A me mica mi piace. C'ha sto retro gusto amarognolo. Ma tu l'hai capito perché? Sarà la farina. No. L'acqua. Ma che? Sono finiti gli ingredienti. Poi metto una coce sulla cenere, che ne so io. Sua cenere? Eh. E se lo metto una coce sulla cenere, allora sta a decenere. Grazie Camaro. Io per questo magno tutto senza pane. Lo sai che mi dicevi nonna? Che se non era per i greci noi stavamo ancora con i pap de farro. Perché sono stati i greci che ci hanno portato i forni, e il lievito del pane. Il profumo del pane è appena sfornato. Poi per me quel profumo è meglio da quello della primavera, eh? Non mi parla di profumi, guarda. Nel naso c'ho ancora il profumo del maiale essiccato. Quanto me manca il maiale! Mi madre lo teneva stipato dentro la dispensa, capito? Per l'inverno. Faceva come le formiche. Ecco che me manca a me di Roma. Le formiche? Le mancano le formiche a me. Le mancano le formiche a me. Eh hai detto le formiche. Mia madre faceva come le formiche. Tu madre dentro la dispensa ci metteva le formiche. Cioè ci mangiavamo le formiche noi. Perché non so come si le fanno. Perché se io mi concentro, capito? Mi vengono sul naso tutti gli odori, quei profumi di caci, e il profumo del pane appena sfornato. Ma perché? L'asparagli serbatici c'hanno un profumo. Prima che ti li magni. Prova a riannusarli dopo. Sono peggio della viscia del gatto. Ma che sei matto? Non si può di gatto da ste parti. Da ste parti i gatti so sacri. Ma che dice se te stiamo nel deserto? Poi sono egizi che dicono che i gatti so sacri. Non mi ha parlato delle bestie. Perché a me le bestie mi hanno fatto sempre impressione. Quelle di qua me ne fanno ancora di più. Perché non le capisco. Ma invece con quelle di casa nostra dei centenni? Parlamo la stessa lingua. Se tu anzomaro di Roma gli fai fermati. Quello si ferma. E invece con uno del posto che fa? Continua a fa come gli pare. Ah, ma allora è una questione di lingua. E che ti sta a dire? Ma sarai un imbecille. E' una questione di pulso, no? Se tu a un cane gli fai... E lo vedi? E il cane se ne va. Perché tu gli hai detto forte, capito? Ma se tu sei motion deciso il cane può essere teruga contro. Perché gli animali sono diversi da noi. La bestia te guarda dentro. Era come dici te. Io però per non sbagliare il cavallo mio lo so fatto da romano. Così parlamo la stessa lingua. Le bestie di qua hanno un portamento che è più... Che più che? E' evidente che più... Cioè lo scarpidio è meno... Ah, meno. Meno. Più o meno? Meno più. Fammi capire. Meno imperiale, vabbè? Allora, sentiamo l'esperto d'animali qua. Quelle bestie che hanno preso al volo per scappare. Ne lo so. E mo chiedi così a bruciapelo. Me ne dovrei studiare. Però te posso dare una sensazione a pelle. Per me? Sicuramente non so giudei. Sicuramente non so giudei. E come fai a dirlo? Hanno trottato di sabato che è il giorno di riposo. Massimo Bert Müller! Michele Laginestra! Eccoli qui! E Arianna Ciampoli. Grazie, grazie. Ciao. Arianna Ciampoli. Grazie davvero, Massimo. Grandi. Grazie. Come questa comanda, questo quanto ci piace come spettacolo. Eh, tornerete in torne, figurati. Eh, è una gioia sua, sì. Eh, sei con te. Beh, fino a Frattocchi possiamo arrivare. Poi io vado un giro per Roma con questo e stiamo a posto. Prese. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi.